Sono a Portocampo con coach Ivan Baglieri, oggi buon esordio per voi, vittoria, però forse salghiamo più il punteggio che la prestazione? Buonasera a tutti, buon esordio per la vittoria per i due punti contro una squadra molto ben attrezzata, non la scopriamo oggi San Marte Messino. Noi sicuramente dobbiamo migliorare molto sull'atteggiamento, concretizzare tutti i vantaggi e fare molti step sicuramente. Una felica mazza di cui passa la maggior parte delle azioni e che si dimostra giudice in Galeria Superiore, una a Gatti importante al rimbalzo? Sì, non le scopriamo adesso, sono giocatici di peso dentro il campo, fanno tanto, ma l'obiettivo nostro è riuscire attorno a questi simboli, riuscire a costruire una squadra delle piccoline, riuscire a amalgamarle per rendere al meglio possibile. E questo giocando, ora cominciando ad allenarci, inizieremo gli allenamenti prima o poi, speriamo di riuscire a farlo. Benissimo, grazie coach Baglieri. Grazie. Grazie. Ti domandevole. Grazie.